Pensava che uno dei finanzieri fosse il cliente che attendeva e gli ha offerto dello stupefacente. Accortosi dello sbaglio di persona, ha tentato di scappare ma è stato trattenuto dal poliziotto che insieme ai colleghi lo ha arrestato. Il pusher, un tunisino, insieme a un complice si è messo a tirare calci e pugni ma gli uomini delle fiamme gialle presenti sul posto hanno bloccato i due nordafricani. L'animato arresto è avvenuto lungo il piovego al portello. I due spacciatori avevano tentato di liberarsi di qualche involucro di droga dalle perquisizioni nelle loro case sono emersi denaro contante per 1190 euro e stupefacente per 60 grammi circa tra cocaina, hashish e marijuana. I tunisini colti in flagranza di reato sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e condotti al due palazzi eppure denunciati per resistenza pubblico ufficiale.